Una situazione, quella che riguarda Ottomelara, che di fatto avevate già previsto davvero tanto tempo fa. Una situazione drammatica, la mancanza anche e soprattutto di un piano industriale. Sì, purtroppo è così. La mia organizzazione già l'anno scorso aveva detto, aveva espresso delle preoccupazioni su quello che sarebbe accaduto all'interno di Ottomelara. Oggi purtroppo il tempo mi ha dato ragione, dico purtroppo perché oggi stiamo cercando di inseguire e stiamo cercando di andare a tamponare una falla che si è creata, nel senso che i carichi di lavoro non ci sono o meglio sono bloccati, l'indotto è in grossissime difficoltà e manca un piano industriale da parte di Finmeccanica che stiamo aspettando perché vorremmo capire quello che può essere il futuro della nostra azienda Spezina. Quali sono quindi le problematiche principali che derivano proprio dall'indotto locale? Allora, l'indotto locale è in grossa difficoltà. Sostanzialmente le logiche di Federmeccanica sono rivolte verso una diminuzione delle spese e in questa logica di diminuzione delle spese, che possiamo anche ritenere vicina alla questione del minimo ribasso sulle gare di appalto, sostanzialmente noi contrapponiamo la logica della filiera breve. La filiera breve è quel concetto dove sostanzialmente le aziende vicine nel territorio all'azienda che realmente produce le attività produttive del comparto hanno la capacità di poter servire l'azienda automelara, in questo caso, nella maniera più veloce, più efficace e più economica possibile. È vero che un'azienda che viene da fuori, che magari ha grandi numeri, può fare in prima battuta dei prezzi molto più bassi, ma è anche vero che nel momento in cui ci sono dei problemi di produzione, progettazione e servizio all'azienda, un'azienda del territorio che ha logiche di alta qualità, di alta gestione professionale, può intervenire immediatamente in quelle che sono le problematiche del prodotto. Quindi la filiera breve è quel sistema che permette a automelara, che adesso è una divisione di difesa che si chiama Finmeccanica One Company, di poter rispondere alle esigenze dei clienti in una maniera corretta, veloce e efficace. Ecco, l'abbiamo detto, la logica è quella di ridurre i costi, però come rilanciare l'azienda, soprattutto con i VBM bloccati e con una legge navale che di fatto non consente di coprire i costi? Sì, di fatto noi abbiamo l'approvazione della legge navale che porterà sicuramente dei carichi di lavoro sulla parte del navale, ma che però non satureranno tutto il personale, quindi anche lì potremo avere in un futuro non troppo prossimo dei problemi di carichi. Sul terrestre abbiamo un problema imminente che è quello del finanziamento della brigata di VBM, perché in questo momento abbiamo la prima brigata che ha necessità di essere finanziata e quindi di andare in chiusura e poi il finanziamento della seconda brigata che è molto più, diciamo, cospicua, che potrebbe garantire circa 10 anni di lavoro sul reparto terrestre di Otto Melara. Quindi sono problemi che dobbiamo sicuramente risolvere.